La mototerapia e il bellunese rafforza nel proprio legame. Merito dell'iniziativa portata avanti da Matteo Botteone e dal suo team Dabut nell'incantevole scenario di Pianlonghi in Nevegal. I bambini che hanno partecipato al campus estivo di Lastreghe si sono uniti ai ragazzi con varie disabilità provenienti dalla provincia di Belluno e non solo per una giornata all'insegna dell'amicizia e dell'amore verso gli altri ad aiutare nell'organizzazione Dario Pizzuto che da tempo ci occupa di questo genere di eventi in Italia e non solo con il team di Vanni Oddera. Oggi è una giornata speciale perché pensato da Matteo che qui in zona Belluno ha un campus per i piccoli allievi ed è bellissimo fondere i due mondi cioè il mondo dei ragazzi che stanno avvicinandosi alle moto con il mondo della mototerapia quindi dei ragazzi che vanno in moto grazie a Matteo, a Vanni Oddera e a tutti i piloti che oggi anche sono venuti. Ragazzi normodotati si relazionano con ragazzi disabili e si trattano tutti come persone normalissime, come è giusto che sia. Abbiamo dei documenti scientifici che ci sono stati rilasciati quest'anno da alcuni ospedali abbiamo dei documenti di sanificazione per la sicurezza quindi ci muoviamo. Oggi siamo 14 squadre sul territorio nazionale. I ragazzi hanno sfrecciato a tutta velocità con le moto, l'auto di Arlen e si sono divertiti a spegnere dei fuochi controllati organizzati dalla ditta Viel Antincendi e poi grande emozione nel vedere da vicino i mezzi delle forze dell'ordine a collaborare nel servizio di sanificazione la ditta Luxury Spa mentre Enrico De Bona di Turistica Dolomiti ha offerto il pranzo. Da società nuova a società cooperativa bellunese che si occupa di disabilità giunge anche la testimonianza di quanto momenti così possano servire a regalare spensieratezza alle persone meno fortunate. I ragazzi partecipano sempre con grande entusiasmo e ormai è da anni che abbiamo questa bellissima opportunità che questi gruppi ci danno e si è creato anche una certa amicizia con il gruppo.